Native Instruments vs Big Sur & Apple Silicon M1 Problemi risolti, sembra, andiamo a vedere per cosa Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ sono Claude e andiamo a vedere la notizia ufficiale di Native Instruments per quel che riguarda Big Sur e Apple M1 Ecco, è arrivata questa mail dove vedete Native Instruments MacOS Big Sur, MacOS Big Sur Update Ciao Claudio Siamo felici di annunciare che Tractor Control S4 MK3 e tutti gli altri prodotti Tractor ora funzionano con MacOS Big Sur 11.2 e con i computer Apple Silicon M1 Clicca per avere ulteriori informazioni Noi abbiamo cliccato perché siamo curiosi anche per dirvelo per vedere se finalmente sta diatriba è stata risolta perché come saprete e avrete visto i video che vi metto qua sopra molte macchine hanno avuto dei problemi per quel che riguarda l'aggiornamento con MacOS Big Sur compresi i nuovi processori M1 dell'Apple Silicon Andiamo a vedere subito la compatibilità di Big Sur le novità Ecco qua, vediamo che Apple ha annunciato il rilascio di MacOS 11 per il 12 novembre 2020 Stiamo conducendo dei test sistematici con la versione di rilascio Big Sur al fine di offrire la piena compatibilità dei nostri prodotti software e hardware il prima possibile Tieni presente che anche se la versione di beta di MacOS 11 Big Sur è disponibile ad agosto 2020 In ultima analisi dobbiamo garantire la compatibilità del nostro prodotto anche con la versione di rilascio Questo è ciò che dice Native Instrument Note importanti e attenzione L'uso di machine MK2 Micro MK2 Machine Studio su MacOS 11 Big Sur può produrre picchi elevati della CPU sul tuo computer che potrebbe causarne il blocco Stiamo collaborando con Apple per trovare una soluzione a questo problema MacOS 10.15 ha interrotto in ottil'operabilità di alcuni hardware legacy di Native Instrument Lo stesso vale per MacOS 11 Big Sur Include Machine MK1 La Machine Micro MK1 Traktor Audio 248 DJ Le schede audio Traktor Audio 2 MK1 E il Traktor S2 S4 X1 MK1 Stato di compatibilità di MacOS Big Sur dei prodotti Native Instrument Li abbiamo nella tabella di seguito Ed ecco la piena compatibilità aggiornata con MacOS 11 Big Sur Vedete Native Access Che questo è importante per aggiornare il Traktor Ab Synth Guitar Rig 6 Pro Contact 6 Super 8 R2 Traktor DJ 2 Traktor Pro 3 Per quel che riguarda i software Per quel che riguarda l'hardware La Complete Audio 1-2 Complete Audio 6 MK1 MK2 Traktor Audio 10 Traktor Audio 2 MK2 L'Audio 6 Il Control D2 Il Control F1 Il Control S2 MK2 MK3 Traktor Control S3 Il Traktor Control S4 MK2 MK3 Quindi questo è un grosso scoglio Sembra essere superato Traktor Control S5 Traktor Control S8 Traktor Control X1 MK2 Lo Z1 E lo Z2 Controlla questa pagina Per vedere se ci saranno degli aggiornamenti Sul sistema operativo Bene Questa sembra essere già una buona notizia Perché già tutti questi hardware E questi software Sono stati finalmente Resi compatibili da Apple E nativi strumenti insieme Perché c'era questo problema Che si scaricavano al barile L'un lato E alla fine siamo sempre noi Nel mezzo con i nostri prodotti acquistati Quindi fate le vostre prove Perché non voglio fare Quello che non ci crede Fino a quando non tocca Però vi devo dirvi Per onor di cronaca Che un utente qua del sito Ha ancora dei problemi Nonostante l'aggiornamento Non so se sia un fatto suo Di hardware, software, computer Però provate anche voi Per vedere se le cose Sono finalmente risolte Spero di sì Andiamo a vedere Quel che riguarda Apple Silicon Compatibility News Quindi la compatibilità Con Apple Silicon Ed ecco qua A novembre 2020 Apple ha annunciato Il rilascio dei primi computer Mac A contenere l'Apple Silicon La nuova generazione di processori I Mac Apple Silicon Richiedono l'ultimo sistema operativo MacOS di Apple Quindi qui parla di Big Sur Non abbiamo già visto questo problema Al momento i prodotti Native Instruments Non sono completamente supportati Sul computer con processori Apple Silicon Dal 12 gennaio 2021 Consentiremo l'installazione Di prodotti Native Instruments Sul computer con processori Apple Silicon Ad eccezione di Massive X Tutti i nostri prodotti Possono essere attivati Installati e aggiornati Utilizzando l'Active Instruments Versione 1.13.2 E successive Che verrà eseguito Sull'ultima generazione Di computer Mac Tramite Apple Rosetta 2 Tuttavia non siamo ancora In grado di offrire Supporto tecnico Per i prodotti installati In questo modo Ad eccezione di quelli Elencati di seguito La tabella sotto Elenca lo stato di compatibilità Ha confermato per i prodotti Di Native Instruments Corrente La tabella verrà aggiornata Vediamo un attimo La compatibilità con Apple Silicon Via Rosetta 2 Tractor DJ 2 Tractor Pro 3 E per quel che riguarda L'hardware Tractor Audio 10 Audio 2 MK2 L'Audio 6 Il Control D2 L'F1 L'S2 MK2 MK3 L'S3 L'S4 MK2 MK3 Il Control S5 L'S8 L'X1 MK2 Il Control Z1 E il Control Z2 Stiamo lavorando Perché insomma Tutto vada per il meglio Apprezziamo la tua pazienza Classico Quindi fate attenzione Perché qui c'è da fare Una distinzione Fra Big Sur E Big Sur Su Apple Silicon M1 In questo caso C'è un tipo di compatibilità Per l'altro Potrebbe essercene un altro Perché potreste Avere installato Big Sur Su Mac Senza il nuovo processore Tenetevi queste due pagine Che io adesso Vi metterò in descrizione Nelle informazioni del video E refreshatele ogni tanto Io volevo informarvi di questo Provate Fateci sapere qua sotto Nei commenti Per mantenere Il video sempre attivo In modo che altri Quando arrivano Possono essere informati Io cercherò di farlo Sempre ogni volta Che mi arriva l'email Ogni volta che mi arrivano Delle novità Ricordandovi dei corsi per DJ Potete fare corsi DJ E di produzione musicale Con il sottoscritto Tutto tramite La sezione contact Compilando il form Nel sito CorsiDJProducer.com Oppure tramite La pagina Facebook La trovate In tutti i video Nelle informazioni C'è sempre la pagina Facebook Mi raccomando Però contattatemi In privato E solo per coloro Che vogliono fare Lezioni private Corsi privati O consulenze private Su tutti i vostri problemi Per tutto il resto Potete lasciare Nei commenti Tutto quello Che volete Avrete le risposte Più o meno Da me O da altri Della community Oltre la pagina Facebook Troverete anche La pagina Instagram E la pagina Telegram Potete iscrivervi Far parte Della nostra community È tutto gratis L'iscrizione Va fatta Mi raccomando Anche sul nostro Canale YouTube SOS4DJ Se vuoi crescere Così cresciamo noi Insieme a te Mi raccomando Attiva la campanella Metti un bel like Se ti è piaciuto E condividilo Con i tuoi amici O i tuoi colleghi Sui social Se pensi che Questo possa essere loro utile Inoltre sostieni SOS4DJ Se pensi che Tutto ciò Che vedi È gratis E ti sta dando una mano Allora Offrici un caffè Una pizza Tutto quello che vuoi Speriamo sia la volta Decisiva Per quel che riguarda Apple E Native Instruments Che si stanno facendo la guerra Ma a quanto pare Non è solo un problema Di Apple Con Native Instruments Ma anche con altre Case produttrici Abbiamo già fatto Questo discorso Di Apple Che va sempre Per la sua linea E che non guarda In faccia a nessuno E poi purtroppo Gli utenti Sia Apple Sia delle macchine O dei programmi Che vogliono utilizzare Su questo computer Rimangono al palo Noi cerchiamo Di tenervi informati Anche perché Spesso le case Se ne fregano Dell'utente finale E questo è L'errore più grosso Mi raccomando Fatemi sapere Nei commenti Qua sotto Tutte le vostre Esperienze In merito Se siete possessori Di Apple Silicon M1 Se siete possessori Di un Mac Con Big Sur Installato E con prodotti Hardware o software Del Native Instruments O anche Di altre case Produttrici Da parte di SOS4DJ Vi ringrazio Per l'ascolto Una buona giornata Mi raccomando L'iscrizione al canale E vi ricordo Che la vostra soddisfazione È il nostro miglior premio Pi-ri-pi-ri-pi Di un'escrizione al canale Grazie a tutti.